A pochi mesi di distanza dai disagi provocati primo giorno di scuola quando la Tundo non aveva garantito servizio di trasporto scolastico ma in altri comuni delle Marche, questa volta non ha rinnovato le polizze assicurative dei mezzi. Quando siete venuti a conoscenza di questo problema? Noi vista la situazione di grande difficoltà in cui versa l'azienda in tutta Italia monitoriamo quasi quotidianamente la situazione e in questi giorni abbiamo ovviamente controllato come sempre una serie di scadenze e sollecitato quindi anche un intervento da parte dell'azienda che però ieri nel tardo pomeriggio ci ha comunicato che non sarebbe riuscita ragionevolmente a garantire la riattivazione e il rinnovo delle coperture assicurative. A quel punto abbiamo fatto una comunicazione ovviamente a tutte le dirigenze scolastiche e alle famiglie che sono coinvolte da questo servizio, che sono più di 500, vale la pena ricordarlo, per cercare di ridurre al minimo il disagio rispetto all'organizzazione e ai tempi di vita e di lavoro delle famiglie, soprattutto cercando di ricondurre il disagio a un'unica giornata, quella odierna. Infatti nella giornata di oggi il Comune di Fano è intervenuto, considerato il ritardo che l'azienda sta mantenendo anche nella giornata di oggi nell'intervenire in tanti comuni d'Italia, è intervenuta direttamente per attivare nuove polizze assicurative che consentiranno a partire da domani, sabato 18 dicembre, la riattivazione di tutte le linee di scuolobus nella città di Fano. Alcune famiglie ci chiedono, visti i disagi provocati, come mai non si sostituisce l'azienda che aveva vinto l'appalto? Innanzitutto perché a differenza di altre città il servizio del Comune di Fano non rientra dentro la gara d'appalto recente della Regione Marche, ma in quella del 2015 della provincia di Pesaro Urbino. Quindi abbiamo anche un percorso differente da altri comuni vicini. Noi abbiamo fatto una serie di puntuali contestazioni in questi mesi che si sono tradotti la settimana scorsa in una difida che formalmente è stata fatta all'azienda, che scaderà proprio nei prossimi giorni, prima di Natale. Se non ci saranno, diciamo così, risposte esaustive convincenti e soprattutto degli interventi puntuali da parte dell'azienda, è chiaro che si aprirà la possibilità di poter procedere alla risoluzione e in quel caso alla sostituzione dell'azienda con la seconda aggiudicataria nella graduatoria della gara però d'appalto, questo è bene sottolinearlo, del 2015 della provincia di Pesaro Urbino. Questo è uno scenario che verificheremo nei prossimi giorni e di cui ovviamente daremo tempestivamente comunicazione nell'eventualità alle famiglie, con ovviamente il vantaggio che nel caso avremo comunque un paio di settimane di tempo per la riorganizzazione del servizio, che sono ovviamente quelle che coincidono con il periodo delle festività.